Francesco Totti più recente è stato a Napoli, città capoluoco della regione Campania, come altri colleghi, si è dedicato al cambio della cover del suo amato telefono, del suo dispositivo mobile e pensate che è andato infatti a New Martina. Ma conosciuta anche nei social in tale modo è una ragazza napoletana che diciamo è una delle più apprezzate donne che riesce a cambiare le cover per i telefoni, è la regina delle cover, va bene infatti attraverso i video pubblicati su TikTok ma anche su altri social network ha raggiunto dei numeri davvero incredibili, molti infatti la vanno a guardare i suoi video e rimangono completamente soddisfatti. Infatti ha creato un business in una maniera pazzesca grazie alle capacità che le mette a frutto cambiando le cover dei telefoni, sia di smartphone che di iPhone, quindi sia di Android che di iOS, va bene? Mette a frutto le sue capacità, riesce a fare un lavoro eccellente da come se c'è su web e anche in questo caso il lavoro è stato piuttosto preciso. Infatti ha pubblicato la stessa Martina un video piccolo su Instagram dove si vede alla sua destra Francesco Totti, l'ex capitano della Roma che va a cambiare la cover al suo amato telefono. Il risultato è veramente straordinario. Il video termina qua, iscrivetevi al canale narratore italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Questo video non vuole leggere la parola di Francesco Totti né di altre persone ma solo informare Stop. Lascio solo infatti per questo motivo e non per altri motivi. Ciao a tutti.